Nell'acqua c'erano tavole, c'era di tutto e mi sono aggrappato lì e avanti, ma dopo avevano buttato giù quelle quadre salvagente e tutti volevano salire, capito? Ma quando facevi per salire la cosa si arrovesciava, la zattera si arrovesciava e allora qualcuno rimaneva sempre là. Io quando vedevo che volevano andare su, siccome sapevo notare, stavo un po' indietro, sicché è andata a finire che la zattera è rimasta con tre persone, io e altri due. La sattera è quadrata con me. Quello che era di fronte di me non potevo pigliarlo, invece quello di fianco l'ho salvato due o tre volte, perché stavo ad andare giù, lo prendevo e lo tiravo su e l'ho salvato. e abbiamo fatto dieci ore perché dalla sera c'era il sole che girava sull'acqua proprio a livello e vedevo il sole. Ho fatto dieci ore di acqua il 13 di dicembre. Poi ci hanno preso, sono venuti con un barcone e ci hanno preso. Quello che avevo di fianco, quello che avevo di fronte, non l'ho più visto. Quello che avevo di fianco non ho potuto domandare come ti chiami, dove sei, niente. E saltato sul barcone dove è andato, non lo so. Comunque ci hanno portato dentro sul calcio, sul coro, ci hanno levato i vestiti con i cortelli, ci hanno levato i vestiti e ci hanno dato mezzo bicchiere di cognac. E dopo siamo messi da un fianco.